La provincia di Cosenza, l'area della Sibaritide in particolare, si trova di fronte ad una tragica realtà delle morti bianche. Secondo i dati di Inailvega, al 30 settembre 2023 sono stati registrati 8 decessi in provincia, a cui si aggiungono gli ultimi 5 casi nella Sibaritide, tra cui l'incidente ferroviario a Turio e altri incidenti a Corigliano Rossano e San Demetrio Corone. Il direttore sanitario dell'ASPE di Cosenza, Martino Rizzo, ha riconosciuto la gravità del problema ed ha evidenziato d'urgenza di affrontare la questione delle morti bianche a livello nazionale. Noi da tempo abbiamo lavorato per limitare questo fenomeno attraverso una serie di iniziative, di informazione, di formazione, di sensibilizzazione. Nonostante gli sforzi dell'ASPE, Rizzo sottolinea la necessità di misure più robuste, annunciando l'assunzione di 18 tecnici della prevenzione per rafforzare il personale e aumentare la presenza sul territorio. È intenzione della direzione stimolare tutte le attività di prevenzione, anche quelle in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto quelle dove c'è una maggiore mortalità, l'agricoltura da noi e l'edilizio. Incentivi esaustivi, secondo lei, o c'è da fare di più? No, no, si può fare sempre di più, però gli incentivi, per esempio, per ammodernare le attrezzature ci sono. Gli stessi incentivi periodici sul pagamento dei premi INAIL ci sono nel momento in cui un'azienda è virtuosa. Quando si accertano queste situazioni rischiano la chiusura dell'azienda, ovviamente. Questo è l'elemento massimo. Però anche quando siamo in situazione al limite le sanzioni sono molto elevate. L'obiettivo è aprirsi ad un cambiamento culturale. Gli effetti sono devastanti.